Spessissimo mi chiedono, Simone mi consigli questo prodotto, mi consigli quest'altro prodotto, secondo te faccio bene ad acquistare questo prodotto? Beh, è sempre una domanda piuttosto scomoda perché la risposta più facile è dipende. Molto spesso ultimamente mi chiedono se consiglierei una coppia di ruote spada. Dipende, vediamo perché. Chi di voi mi segue sa che qualche settimana fa ho fatto un video su una coppia di ruote spada che ho venduto a un mio cliente e ho fatto l'appello a spada se poteva mandarmi una coppia di ruote da provare. Ovviamente questo non è successo però io fatalità il caso ha voluto che riuscissi a mettere tra le mie mani una bella coppia proprio di ruote spada perché un cliente me l'ha data indietro per comprare un'altra coppia di ruote e quindi ho avuto la possibilità di usarle per 3-4 settimane. Ci ho fatto circa un migliaio di chilometri, sono già ruote che al loro attivo avevano un po' di tempo, non so quantificare di preciso quanto ma diciamo tra i 5 e i 10 mila chilometri, quindi ruote già usate e va benissimo, meglio ancora. Sono per la precisione le T-Ban con profilo da 38 mm e cerchio Ucless per copertoni tubeless. Quindi il fato mi ha dato una mano, non mi ha dato una mano spada ma appunto sono riuscito comunque a provare una coppia di ruote spada proprio nel periodo che volevo provarle e quindi adesso posso dirvi le mie impressioni perché sono mie impressioni, non è detto che siano valide per tutti ma appunto sono mie impressioni personali. Quindi riprendendo la domanda iniziale, Simone mi consigli una coppia di ruote spada a prescindere dal modello? Beh, probabilmente sì ma per determinate situazioni no. Nel senso, se cercate una ruota leggerissima dal rapporto peso-prezzo stupefacente, decisamente vanno bene. Se cercate una ruota maneggevole da usare appunto su percorsi anche molto tecnici, quindi discese, vento, curve particolari, vanno benissimo perché queste con profilo da 38 mm veramente soffrono pochissimo il vento. Non pensavo che avessero un profilo così bene a studiare, ma vi assicuro che rispetto a ruote da 40-42, queste da 38, sembrate avere una ruota molto più bassa, quindi anche con il vento vanno benissimo, consigliate. Per chi cerca invece una ruota che una volta lanciata sembra che la bici vada da sola, dia quella sensazione di acquistare velocità e mantenerla molto facilmente. Se cercate una ruota che può ottenere pesi importanti, diciamo pesi massimi, quindi 90-100 kg, no, perché queste sono date al massimo per 85-90 kg, quindi decisamente se siete pesi massimi, no. Se cercate una ruota che richiede poca manutenzione, che dura per anni, che appunto speriate che possa accompagnarvi per moltissimi anni senza fare grandi manutenzioni, senza starci troppo attenti, no. Io queste ci ho dovuto già cambiare i cuscinetti appena le ho ritirate. Comunque sono ruote piuttosto delicate, lo dico anche per le mie esperienze che ho avuto in passato. Adesso non vi sto a dire che il cerchio è fragile, perché ci ho accorso anche, ci ho fatto due gare, ci ho preso belle buche. Ok, fortunatamente, niente, non è successo nulla, quindi bene, vabbè che peso poco più di 60 kg, però bene. Posso dirvi però che questa versione per copertoni tubeless e hookless richiede pressioni di gonfiaggio piuttosto basse, sul loro sito è indicato tutto, quindi se siete tra quelli che vogliono gonfiare le ruote a manetta non potete prendere questo tipo di cerchio. Io comunque, restando nelle pressioni consigliate, mi ci sono trovato veramente bene. Quindi per stringere e per non far durare troppo questo video posso dire che queste ruote possono essere consigliate a molti, a chi fa gare con molto dislivello, a chi cerca una ruota molto maneggevole che richieda anche, diciamo così, poca destrezza nella guida del mezzo, perché queste non mettono assolutamente in crisi la guida, chi cerca appunto una ruota molto leggera, che vuole una bici molto leggera, queste sono super indicate. Per tutti gli altri magari a questo prezzo si trova roba sì un pochino più pesante, un pochino più commerciale, ma sicuramente più indicata per tutto, appunto per tutte quelle altre persone, per tutti questi altri tipi di utilizzo. Per finire voglio parlarvi anche dei dischi, questi sono quelli che danno insieme alle ruote, ovviamente opzionali se li volete, perché questi mozzi, tutti i mozzi spada usano fissaggio dischi sefori, quindi in commercio non si trovano ad esempio dischi Shimano da strada sefori, ma solo center lock, quindi questa è un po' una limitazione, loro consigliano di prendere insieme alle ruote questi dischi a shima, che sì sono leggerissimi, non hanno una gran frenata, sicuramente non hanno una gran durata, ma dato che chi prende queste ruote vuole roba leggera, per pochi euro in più prendete questi dischi a shima perché, ripeto, non una gran frenata, ma se siete molto pesanti non prendete neanche queste ruote, quindi non una gran frenata per pesi leggeri ci può stare, io mi ci adatto benissimo e, ripeto, per pochi soldi completano il pacchetto, queste sono ruote che vengono circa 1.500-1.600 euro, quindi, ripeto, potrebbero essere un'ottima scelta per molti. Quindi, se qualcuno mi chiederà se queste ruote continuerò ad usarle o se voglio venderle, sono in vendita, vi dico che già sono vendute, quindi non le continuerò ad usare, ma non è una mia scelta, sapete, vendo tutto quello che mi capita sotto mano. Per oggi, ragazzi, è veramente tutto, spero di aver dato una risposta, anche se non definitiva, a tutti quelli che vorrebbero acquistare una coppia di ruote spada, queste T-Van da 38 sono anche gradevoli esteticamente, quindi, dai, per la maggior parte dei tuorizi, sì, le consiglio, le consiglio, le consiglio sicuramente, con tutte le limitazioni che ho già detto. Ciao! Grazie a tutti